Primo spettacolo Mi sono incontrata con questo libro per caso in tournée Ho sentato in una libreria e ho visto questo libro Mi sembrava pazzesco Cioè leggere che era un libro con cose di Marilyn Monroe Qualcuno scriveva su Marilyn Monroe Si è scritto tanto su Marilyn Monroe Per la prima volta leggevamo qualcosa veramente di suo Che aveva scritto lei Ho aperto questo libro che è bellissimo Lo consiglio a tutti Perché poi ci sono accanto le pagine realmente Di Marilyn con la sua grafia Con i suoi appunti, con le sue correzioni E tante bellissime fotografie Ho detto ma questa è una cosa pazzesca C'è di tutto C'è dalla sua disperazione Alle sue poesie Alla sua lista per la spesa Alle battute che non riesce a imparare A cosa pensa di tutto Della vita, della sua paura, della morte Le risposte alle interviste che poi forse non ha mai dato Cioè cose meravigliose Un lato intimo sconosciuto di Marilyn Monroe Esce fuori una poetessa meravigliosa Visionaria, straordinaria Esce fuori una persona che aveva tanta paura Che aveva tanta paura E che si sentiva sempre inferiore agli altri Questo è pazzesco Paradossale quasi Il più grande mito Ecco Dei nostri tempi Però era così Ci sono le lettere dall'ospedale psichiatrico Dove è stata ricoverata forzatamente Noi forse non dove assolutamente andare a finire Quindi tante cose Anche buffe Più tenere Le cose che deve aggiustare a casa Come si cucina un po' Cioè qualsiasi cosa Le ricette di Marilyn Monroe Qualsiasi cosa Ed è un libro veramente pazzesco La gente deve conoscerlo secondo me Ecco Per giustizia anche nei confronti di Marilyn Per giustizia anche nei confronti di Marilyn Monroe